La scuola non ha mai abbandonato le studentesse e gli studenti. L'emergenza ha fatto anche riemergere con forza problematiche decennali del sistema di istruzione che ci hanno spinto a interventi immediati per reagire alla crisi e che ora ci sollecitano ulteriori interventi che guardino al futuro. Vogliamo digitalizzare la scuola e farlo in fretta. Abbiamo stanziato oltre 400 milioni di euro, aumentandoli dagli iniziali 200 per potenziare la connettività delle scuole portandola negli istituti.